Castello di Lidria ci riserva un'altra bellissima sorpresa. Ai piani alti un museo storico sulla vita della Slovenia incredibile. C'è di tutto qua dentro, compresi i cartelli che dicono che si parla solo tanto italiano e poi i ceppi e poi ho trovato anche un ottimo compagno di viaggio per andare fino a Pechino in motorino. E, товарищ, che ne dici di venire fino a Pechino con me? Non pare molto entusiasta.